E ragazzi oggi vi presentiamo un video davvero importante per noi perché per la prima volta da quando abbiamo aperto il canale non saremo più soli soletti ma faremo una vera e propria serie insieme ad altri youtuber Esattamente è stato scelto un gioco davvero fantastico ovvero Ark però in una chiave totalmente rivisitata dato che con una mod avremo dei pokemon al posto di dinosauri Questi pokemon ci potranno aiutare o ostacolare a sopravvivere nel mondo di gioco Esatto è davvero una figata incredibile ovviamente ogni tot episodio ci saranno anche delle sfide che faremo noi insieme agli altri youtuber Quindi sarà davvero fighissimo da vedere e ovviamente vi lasciamo anche il link in descrizione di tutti i canali che parteciperanno Esattamente buona visione E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Steffi che si chiama Pokémon Survival E siamo qui prontissimi per iniziare questa nuova fantastica serie e sono felicissima Ma cosa c'è di più bello di sopravvivere in un mondo con i pokemon? Dimmi cosa c'è di più bello? Cioè possiamo cavalcarli È il sogno di una vita Usarli per combattere Qualsiasi cosa vi venga in mente Si possono anche mangiare però sinceramente io non voglio assaggiare i pokemon Non so tu però Allora io sono molto propensa ad assaggiare cucine diverse ma i pokemon sai com'è? Mi viene da pensare come quella volta non c'entra nulla non so perché iniziare un episodio così Però una volta i miei amici mi hanno fatto andiamo a mangiare l'hamburger di canguro Anche a me l'hanno proposto No grazie e me ne sono andato dall'altra parte È come se mi dicesse hamburger tipo di gatto ho capito Allo stesso modo ho rifiuto volentieri di mangiare carne di pokemon Era giusto una parentesina piccolina Comunque siamo nella nostra casetta Siamo nel villaggio dove tutti gli youtubers sopravviveranno insieme Queste sono tutte le casette sono tutte uguali tra loro Ma la nostra è più bella solo a vederla No? Vero ha questo legno più pregiato secondo me Allora ti devo dire una cosa Te la dico guardando ti in faccia No 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 mi devi proprio guardare Anche se ho i capelli un po' in faccia Tu fai finta di guardarmi negli occhi Vedo solo un occhio forse metà occhio vai dimmi C'è una casa già più bella della nostra Lo so Te lo dico E non va bene Quella di espigiochi Lo so Cioè ne siamo entrati Guardate la meraviglia che ha fatto Allora Da una parte sono arrabbiato perché è più bella della nostra No io sono invidioso Dall'altra sono felice perché so Che dal prossimo episodio avremo anche noi La nostra faccia stampata in una casa Cioè Ci metto proprio la mia faccia Così capito Ce la metto subito Cosa vuoi di più della vita? Volevo sbirciare un po' nella sua casetta Ha già un pokemon Che serve espor Poi ha Il macchinario Per fare i pokemon E ovviamente il letto Ma quello ce l'abbiamo tutti Ovviamente le casette sono tutte spoglie Perché siamo tra i primi Che hanno iniziato a registrare Il primo episodio della serie Esattamente Quindi poi pian piano vedrete anche le case degli altri E' buio pesto Per fortuna siamo qua Che almeno siamo diciamo Al sicuro Rispetto a stare lì fuori In mezzo a pokemon e dinosauri Perché c'è un po' di tutto Vediamo che ora sono le 4.35 E guardate che bello il mio personaggio Visto che ci siamo Ve lo mostro Lo so Che ve lo stavate proprio Ti stavo prendendo Chiedendo Ma com'è il personaggio di Steph Eccolo qua Quando tu l'hai creato Precisamente A cosa hai pensato Ai modelli delle pubblicità armani Allora era proprio sbagliato No no è uguale E' uscito storpio E' uscito storpissimo Allora aspettiamo che faccia giorno Perché voglio far vedere bene i pokemon E usciamo dalle mura E andiamo un pochettino Ciao mimico Eccoci fuori C'è ancora un po' di buio Ma si inizia a vedere abbastanza E soprattutto In lontananza vedo un ponita Oh mio dio mio No cosa hai visto? Credo sia un Charmander E' lontanissimo Addirittura c'era una roccia tra me e lui Ma credo di averlo visto No secondo me è un ponita Si è un ponita Ciao Plastois No aspetta è livello 85 Io direi di lasciarlo perdere Ti lasciamo in pace tranquillo Che se ci dà un pugno ci stende Oh che bello che sei Non vogliamo sfidarti Plastois Ma sei bellissimo Sei bellissimo Comunque no C'è il ponita Ma c'è anche il Charmander No io ancora non lo vedo Alla Charmian Ciao bello Livello 90 Ok credo Che anche tu Sei meglio da lasciare in pace Per oggi dai Mi sa Mi sa tanto che non me la sento Scusi Mi sta cecando Lei mi sta cecando Non vedo nulla Almeno mi È un Rapidash Ci offre almeno degli occhiali da sole Qua per favore Tu pensa a cavalcarlo Uuuu Quello è un Bulbasaur O un Ivisaur Ma io Li vedi solo te Non lo so Non lo so No mi sa che è un Ivisaur Io voglio lui allora No no Non puoi Ma guarda Secondo me Anche solo se la carezzi Ti dà un colpo di tora E t'accapota Dimmi Perché mi stai negando i Pokémon Perché ti ammazza se lo tocchi Sei benissimo Che in lui saremo perfetti assieme Ma ti ammazza Non è colpa mia Molto più di quanto siamo io e te Sei troppo debole Dove stai andando Via Vieni qui Adesso mi butto Devi puntare in basso per ora Siamo deboli e scarsi e disarmati Quanto è alto sto di lupa Decisamente troppo Tantissimo Allora io direi Siccome non siamo molto esperti Non abbiamo mai preso un Pokémon Di iniziare da uno Poi vediamo se prenderne anche un altro Oppure no Io un po' son tentato da lui Cioè non è che mi piace molto Però la sciarpa come me Un po' mi sento a casa Vedendolo Ascolta Lo butto giù No lasciali pace Facciamo un giretto anche da quella parte Vediamo cosa c'è Sicura? Che dici? Perché lui è al 15 Lo butto giù con un... Ha fatto una mostra di parkour Ma stai calmo Uuuu Vieni 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 C'è l'evoluzione di Eevee C'è l'evoluzione di Eevee Ciao Non ti piacerebbe troppo partire con lui? Guarda sta correndo verso di me Vi state abbracciando? Sì ci stiamo abbracciando Tu non l'hai visto ma ci stiamo abbracciando Aspetta te lo faccio rivedere Guarda come ci abbracciamo Sì Siamo fatti l'uno per l'altra È decisamente inquietante Siamo felici È decisamente inquietante Allora inquietante sei tu Che ti sei conciato in quel modo Con quei capelli bianchi Con quella barba Cioè sei tu l'unica cosa inquietante Proviamo a stenderlo? Non lo so Dai dai proviamoci 40 ci stende malissimo Lo so ma ci dobbiamo provare È comunque debole 2 1 vai Mi stai picchiando anche a me Stai attenta Eh come faccio? È talmente piccolo Sei stato ucciso Io che ti ho detto? Io che ti ho detto? Che ti ho detto? Cioè sono cattivi qua Sono cattivi Almeno adesso lo sappiamo Magari avevi qualche dubbio Adesso sai Che ci stendono proprio per davvero Ci serve qualcosa di decisamente più debole Quindi dobbiamo essere molto più calmi nella ricerca Sì è proprio qualcosa di basilare basilare Non bisogna sognare troppo in alto L'ho capito Qua devi iniziare dai pokemon buzz E la ma li vedi E ti viene ovviamente da sognarci Capito? È certo È bellissimo ombre un po' E lo adoro Oh Dove sei? Dietro di te Hai visto che roba c'è qua? Si può prendere? Sì queste sono le risorse che ti danno gli alieni Non è vero Quelli che comandano il mondo Guarda qua che bella roba Vai Ma ci mettiamo il letto nuovo Hai visto? Abbiamo un nuovo lettino Ok I tributi cos'erano? Cosa sono? Non li ho presi io Gli hai presi tu? Ma no non me li ha dati Comunque ci siamo presi Della carne da dare ai pokemon Così ce li tramiamo Ottimo Una borraccia per l'acqua Che fa sempre comodo Un fuocherello E un letto Ci mettiamo il fuocherello dentro casa E anche il letto nuovo Comunque per chi non conosce arche È semplicemente una cosa Che intanto cade in certi punti Da mappa Si possono andare a prendere E ti dà risorse casuali In base al colore che ha Giusto per precisare Non sono gli alieni Allora Sono gli alieni invece Era più figo quando avevi detto Che erano gli alieni Dopo il fallimento con Umbreon Ho capito che devo prendere il sharpino Quindi devo ritrovare Io ne ho trovato uno di livello 10 Dove? Qui di Umbreon Umbreon livello 10? Sì E allora è lui Dove sei? Non ti vedo Qui Provo a saltare Non ti vedo anche se salti Ma da che parte sei andato? Forse sei andato da parti diverse Eh vabbè Cerco di raggiungerti più o meno Ok ti ho visto Arrivo 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 Vai Vai Ok Sto cercando almeno di non darci il pugno A vicenda sta scappando? No ti ha ucciso? Ma quanto è potente ragazzi Forse non mi stava abbracciando all'inizio Forse mi stava minacciando Inizio a pensarlo anche io Neanche al 10 Umbreon Io l'ho visto al 10 Ho fatto magari colpa del livello Invece è proprio potentissimo No Non ce la facciamo Mia cara così non è Usciamo vivi Secondo me E siamo andati Molte diverse volte Che figuraccia però Che figuraccia Non è una figuraccia Ma siamo andati felicissimi Pronti a catturarle Addirittura in due Invece non ce l'abbiamo fatta Allora Allora Secondo me dobbiamo iniziare a creare Delle frecce narcotizzanti Ok Sono d'accordo Per cercare di farli addormentare Invece che farci prendere A colpi brutali E a quel punto Cerchiamo di tamarli Allora però Per craftare le frecce narcotizzanti Dobbiamo fare un trip Improponibile di crafting Quindi abbiamo bisogno Di fare sicuramente Il mortaio Per mettere le varie cose dentro Dopodiché Per mettere le bacche Che narcotizzano Ovviamente Tutti lo sanno Per farlo Dobbiamo creare un arco Dobbiamo creare le frecce Dobbiamo combinare Il narcotizzante Delle frecce A quel punto Abbiamo le frecce narcotizzanti E siamo pronti Mi sembra di essere tornati su eco Ci stava tutto Ci stava tutto Ok da cosa iniziamo? Prima di tutto Dall'imparare a fare arco e frecce Trovato Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Per fare l'arco ci serve 15 di legna E 50 di fibra E non ho la legna Per fare le narcotizzanti Ci serve la freccia di pietra E il narcotico Per fare le pietre Paglia Se c'è fibra Quindi Ok Usciamo di casa Anche se è notte Ok E ci prendiamo legna Pietra Tutto quello che ci può servire Ok perfetto Perfetto E mentre si incomparsi altri pokemon Bulbageaur Bulbageaur Ma luccica come le lucciole Guardalo Aspetta Lo devo salutare Girati Lascialo in pace Dai Ciao Che bellino che sei Ah sei andato Appena l'hai salutato Ti do un pugno Lascia in pace Allora mi hanno già fatto arrabbiare qui Quindi non ti ci mettere pure tu Vattene Lascialo in pace Perfetto Ho fatto tantissima pietra Mi creo subito un piccone Perché altrimenti mi dà tantissima pietra E pochissima selce Mentre a noi serve la selce Per fare le frecce Giusto Ricordo bene Due di paglia Uno di sì Ok ci serve anche Devo dirti una cosa Dimmi Ho appena fatto la cacca E ho Ma c'è il gabinetto Ma non devi farla in giro No qui siamo in natura Cioè quando ti scappa Fai No no funziona così Che schifo Sì che funziona così Mo puzza per tutti i dinosauri Bulbasauri Se devono sopportare la tua puzza di cacca Sì esatto Non mi sembra una buona idea Così impara Capito A non volermi salutare Ma è minutico Ma come hai fatto Bellino Lui è mio Lui è mio Te lo dico Se a me non piace Il pokemon della mia vita Finalmente è arrivato Finalmente è esponato Ho sentito il mio richiamo Però non è giusto Io voglio Shytar allora Il mio preferito Il mortaio Per fare il mortaio Ci serve la pelle Ok La pelle Dobbiamo ammazzare Qualche dinosauro Slash pokemon Ok In questo caso pokemon Sì credo Gli dinosauri non ne ho visto Quindi facciamo così Mi creo un arco È rimasta solo la legna Prenditela qui dentro Dai inizio ad andare fuori Sennò qua non la finiamo più Ok Io sto creando un arco E dieci frecce Così Spero di poter affrontare Almeno un pochettino Ho qualche pokemon A questo punto Mi prendo la legna Che mi hai lasciato E creo la ceste Con la legna Che mi hai dato E appoggio tutto Dopodiché vengo a raggiungerti Va bene Il mio arco è pronto Le frecce sono pronte Tu stai andando a prendere Altra legna Ne serve Ne ho messo tanta Ne ho messo davvero tanta Continua Tanto ci servirà a priori O adesso O in futuro Taglierò la scena Perché così soffrirò solo io Sono triste Ho dovuto fare una cosa bruttissima Muoviti dai Però adesso abbiamo la pelle Allora Cosa mi serviva la pelle? Non è colpa nostra Come te la recuperi Altrimenti La pelle mi serviva Per fare il mortaio Sì Quindi adesso Mi riprendo La mia bella pietra E ci manca Ancora pietra Creo il mortaio Pum Ok Messo a fare Ci siamo Ci siamo Ci siamo Allora mi prendo anche Un attimino Un po' di legna Perché devo riparare Il mio bellissimo picone Si è già spaccato Come non so che cosa Allora io cosa mi devo creare? Eh Nulla Tipo solo l'arco? Sì l'arco e frecce Ok l'arco e frecce Le frecce di pietra giusto? Sì perché poi le trasformiamo in quelle narcotizzanti Giusto per capire Appena impariamo Allora Ho messo a fare il mortaio Quindi eccolo qua Facciamo Tacchete Tacchete Ne abbiamo a dismisura Quindi mettiamo Perfetto A craftare Sette narcotici Mi escono soltanto E vai a prendere Delle narcobacche Se le trovo Sì ovvio Devi prendere le bacche in giro E ogni tanto ti danno Narcobacche Esatto Sperare per il meglio Abbiamo 17 frecce Io spero che bastino Da chi partiamo? Dal mio Pokémon Dal tuo Dal mio Cioè ormai mi vuoi anche far attendere Dico io Sì Ma dai muoviti Ho paura Perché secondo me Filerò malissimo Non ce l'avrò mai Guarda è già qui davanti No non voglio lui Voglio lui Questo Questo è più bello Ce lo dici tu Pronta? Vado Spara Scusami Scusami Ma poi saremo super amici Te lo prometto No vabbè Io sono già praticamente morto Scappo in casa Scappo in casa Come stai tu? Qui in mezzo Stanno seguendo solo a te Ma come si spara? Perché non mi parte? Tasto destro Tieni premuto sinistro molli Ah ecco Vai Aia No allora È solo perché ti voglio come amico Non lo prendere come un'offesa Ok? Non credo che possa capirlo Chiamo tanto Ok l'ho ricolpito No 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 Sta scappando No Ok ok aspetta Aspetta È crollato È crollato Carne Mettiamoli la carne Io sono quasi morta Cioè sei un matto Che tragedia Gli hai dato la carne? Sì Ok allora aspetta Vediamo se ho della primit No Non ne ho Allora come sta? Per ora è inconsciente Ma Ma io stavo guardando E questo chi l'ha buttato giù? Ma ne abbiamo attaccato due diversi Ce ne sta anche un altro a terra Io sto facendo questo Gli ho messo la carne E ne abbiamo mostordito anche un altro Eccolo È arrivato Allora se metto accettano Gli do un nome giusto? Eh credo Accetta Oh ma sei bellissimo Oh mio dio Aspetta ti devo guardare bene Ma è bellissimo Ce l'hanno fatto perfetto È bellissimo Sono la persona più felice del mondo Te lo giuro Vieni in casa Allora Seguimi Per sopravvivere in questo mondo Tu hai deciso di procurarti un IV Sì esatto Prova a correre un po' Mi segue? Prova Sto morendo di fame Sì vedi? Oh che bello Oh mio dio Io sono chiamatissima Ma sei la cosa più felice Doveva essere una serie serie Oh mio dio Torna anche serie serie Vieni a casa Ti do una casa fantastica Vieni Vieni L'hai chiusa la porta in faccia No no Non volevo Si chiude È automatico L'hai flipato No No IV No vieni qua IV No Ok Allora devi stare molto attenta Sto per svenire dalla fame Mi procuri Vai Corri Vieni IV IV Questa porta automatica Accidenti Gli ho paccato la porta in faccia Vieni Entra Vieni È bellissimo Salta Non ne voglio più sapere ragazzi Non devi saltare Mi ritiro Come ti faccio entrare se tu non salti Metto un pocarello qua Metto a fare della carne Brucio un po' di legna E siamo tutti felici Ci sto ancora litigando IV Salta Accendi Salta Tu è andato dall'altra parte Non devi saltare Perché non salti Sta andando via Tenta Vieni Vieni Qui dentro Vedi Questa è casa nostra Tu devi entrare Ma ciao amore mio Ma quanto sei bello Ma quanto sei bello Sai come l'ho chiamato? Ehi Ti ho dato un pugno Non l'ho ricevuto nel caso Però grazie Ora Mi hai steso Mi dispiace Come stai Steph? Perché sei arrabbiata? Perché Perché Evie non entra in casa? È troppo piccolo Per fare quel salto Correndo qui fuori Mi sta venendo da piangere Io in tutto il tempo Imbattibile Guarda cosa ti ha costruito Guarda cosa ti ha costruito Steph Grazie Sei tornato a essere Il mio amico In questo momento Allora Gli ordino di starsi fermo Così non uscirà mai più Ok Perché mi sembra una cosa giusta Fermati C'è bellissimo C'è bellissimo Staremo insieme per sempre Sono felicissima Gli sto anche aumentando il danno Così tirerà delle sberle Che tu neanche puoi immaginare Ok va bene Va bene Quindi Ce l'abbiamo fatta Bulbasaur più Evie Primo episodio Ognuno ha il proprio Pokémon Che faticaccia Che faticaccia Sì è stato davvero faticoso Sia prenderli Che farli entrare in casa Guarda Non mi aspettavo una fatica del genere Però ne è valsa la pena Perché sono meravigliosi Un'ora e 45 E abbiamo finito il primo episodio Dai è stato proprio leggero leggero E vabbè Oh te li fanno sudare qui Pokémon Da due minutini Mi sembra anche giusto Che non è tutto subito Certo Mi sembra giusto Ovviamente Mi è piaciuto molto Fighissimo Sì molto 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 figo Una figata pazzesca È bellissimo il villaggio È bellissimo Prendere i Pokémon Te li fanno sudare Li devi temare Tutto figo 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 Ovviamente nei prossimi episodi Capiteranno degli episodi Registrati anche insieme agli altri Ogni tot episodio Organizzeremo qualche evento E tutti insieme Giocheremo nel server Quindi preparatevi Perché capiterà anche quello E uno dei primi obiettivi Della serie Sarà quello di trovare Un Pokémon volante Tipo Pidgeot Da tamare Per volare Perché ovviamente Si può salire sopra il Pidgeot Esatto E volare via In questo modo Andiamo in altre zone Della mappa Da esplorare E anche questo è un evento Che faremo tutto assieme Quindi sarà bellissimo Sì Spero che si riusci Così si è giusto Scieteci un bel like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Grazie per la visione!